Sciopero all'Avicop di due giorni e due turni di lavoro per tornare ad evidenziare tutta una serie di criticità. La questione delle pause di lavoro non retribuite, il calo significativo nelle giornate di lavoro e il futuro del polo produttivo di controguerra. Sono stati questi gli argomenti al centro delle polemiche. Per questo motivo i lavoratori dell'azienda di trasformazione di prodotti alimentari della Bonifica del Tronto, facente parte del gruppo Amadori e che occupa oltre 200 persone, sono tornati a ribadire alcuni concetti emersi nel tavolo di concertazione sindacale. Abbiamo fatto la settimana appena passata, due giorni di sciopero, venerdì e sabato, con una grossa percentuale di adesione che ha sfiorato il 90%, dove praticamente stiamo trattando da diversi mesi, sembrava la soluzione a portata di mano, ma invece all'ultimo incontro l'azienda ha fatto un passo indietro e più che fare un passo davanti e la situazione si è peggiorata e quindi siamo a punto di partenza se non peggio. Ci sono circa 200 lavoratrici e lavoratori con un contratto a tempo determinato e fanno di sosso manuale, un lavoro abbastanza faticoso, un lavoro abbastanza che ha creato diversi problemi, e infatti ci sono parecchie prescrizioni e parecchie, diciamo, interventi della medicina del lavoro. Quali saranno le richieste che i sindacati faranno nell'incontro in Regione? Ma praticamente è quella di, siccome l'azienda dice questo lavoro che è pesante, che sta creando dei problemi ai lavoratori, noi la possiamo bypassare facendo sei pause da otto minuti. Noi non ci risolve il problema, siamo convortati con questa nostra decisione alla medicina del lavoro che ha sposato la nostra tesi, però come si dice non facciamo gli istruzzi, non abbassiamo la testa sotto la sabbia. Se questo fa parte nell'orario di lavoro, trattiamo, vediamo. Se invece addirittura dal danno alla beffa, nel senso che queste pause è tutte a recupero, beh, insomma, penso che la situazione sia lontana.